Per ogni tipo di record gestibile dal pannello DNS ti è possibile importare ed esportare la configurazione del dominio. Per farlo collegati all'indirizzo admin.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il tuo username.aruba.it, la relativa password, il codice di controllo mostrato nell'immagine e accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio che vuoi gestire. Diversamente l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu a sinistra seleziona la voce dominio. Dalla sezione gestione DNS e name server clicca su gestisci DNS per accedere al pannello. Da qui individua e apri la sezione relativa al record di tuo interesse. In questo video ti mostrerò come esempio un record CNAME, ma la procedura è uguale per tutti i record presenti. Seleziona gestisci. Clicca sull'icona esporta presente nel menu in alto e scegli il formato di esportazione che preferisci. Poi clicca su download. Salva il file in locale. Il salvataggio consente di avere sempre a disposizione sul tuo pc una copia della configurazione scelta per il dominio. Per modifiche consistenti ti consiglio di effettuarla nella copia della configurazione salvata in locale. E solo successivamente importare il file modificato all'interno del pannello. Nel caso in cui tu voglia esportare l'intera configurazione del DNS, utilizza il pulsante esporta configurazione presente nella parte inferiore della pagina principale del pannello DNS. Per importare da locale un file contenente una configurazione del dominio, apri la sezione relativa al record di tuo interesse. Seleziona gestisci. Clicca sull'icona importa presente nel menu in alto. Quindi utilizza il pulsante scegli il file per selezionare il documento da locale. Viene così visualizzato il nome del file a fianco del pulsante stesso. Indica il formato del documento da caricare e clicca su upload. I record caricati sono visibili in elenco. Poi clicca su prosegui in fondo alla pagina e infine su salva configurazione. Nella finestra visualizzata vai su conferma. L'esecuzione comporta dei tempi tecnici dovuti alla propagazione del DNS. La funzione importa ti consente di importare solo la configurazione relativa alla tipologia di record da cui è stata selezionata. Ad esempio dalla pagina di gestione del record A, cliccando su importa, viene caricato solo la configurazione relativa al record A. Per effettuare un restore completo della configurazione del dominio, devi eseguire le operazioni appena mostrate per ogni tipo di record, accedendo alle pagine di gestione e cliccando sull'icona in porta in alto nei vari menu.